La ricerca del lavoro oggi passa sempre più spesso dal web. Curriculum, referenze e competenze hanno una vetrina digitale importante, ma va curata e utilizzata in modo giusto per ottenere più velocemente le migliori opportunità lavorative. I social network vengono sempre più spesso utilizzati per trovare lavoro o dalle aziende per selezionare il personale. Ne abbiamo parlato con Beatrice Podda, Digital Marketing e Communication Manager del gruppo Adecco, esperta che ha lanciato tutti i canali social di Adecco e Tudor Vlad Lazariu, cofondatore e project manager di Easy Eat, una start-up che migliora i modelli di business dell'impresa attraverso marketing integrato, digitalizzazione, ricerche e sviluppo con il Politecnico di Cremona. Può far vedere delle caratteristiche da valorizzare agli occhi di un referente aziendale o di un selezionatore. I canali social ci offrono un palcoscenico da valutare attentamente. Ovviamente non sono la soluzione di tutte le difficoltà attuali del mondo del lavoro, né tantomeno sono l'unico strumento di selezione, non sostituiscono il colloquio tradizionale, il CV. Ma con i social network si trova lavoro prima? Trova lavoro prima e possiamo dire che forse trova anche il lavoro più adatto. Una recente ricerca condotta da Adecco su un campione di 17.000 candidati e 1.500 responsabili delle risorse umane in tutto il mondo ci dice che il 50% di chi cerca lavoro utilizza attivamente la rete internet e i social network. Dall'altra parte ben 7 selezionatori su 10 utilizzano i social per trovare la persona giusta. Interessanti anche i video che spiegano come utilizzare i tre social principali, Twitter, Facebook e LinkedIn. Ma quale preferire? L'ideale sarebbe capire il contesto in cui ci si trova, ma d'altra parte è così che viene anche nella vita fuori dalla connessione, nel senso che ovviamente non andremo vestiti a teatro allo stesso modo in cui andremo a vedere una partita di calcio. Durante la trasmissione in collegamento Skype la testimonianza di Riccardo Cavaliere, giovane scrittore e digital storyteller, che si occupa anche di web editing e Oana Pirloga, grafica e fotografa, contattati anche grazie ai loro profili Instagram. Il giorno d'oggi sono fondamentali perché se non sei all'interno di un social o comunque di una piattaforma che ti dia visibilità, sei praticamente inesistente, a meno che tu non conosca altri canali per arrivare dove vuoi arrivare. Attenzione a quello che postate, privilegiate la sincerità senza omissioni che sarebbero facilmente scoperte al primo incontro. Il web è forse oggi il canale e il mondo virtuale per quello che è, più meritocratico che c'è, nel senso che tutte le bugie prima o poi vengono a gala sul web e soprattutto attraverso l'interazione con le altre persone, le recensioni delle altre persone, piuttosto che il coinvolgimento che i nostri contenuti possono avere, questo diventa tutto un meccanismo molto meritocratico. Lo ripeto perché purtroppo lo sappiamo tutti che ci sono ambienti in cui la meritocrazia... Nell'indagine di ADECO si evidenzia come nel corso degli ultimi tre anni è triplicata la percentuale di casi in cui i recruiter escludono dalla selezione un candidato dopo aver dato un'occhiata ai suoi profili social. A noi ad esempio capita spesso, soprattutto magari su profili neolaureati, è quello di forzare alcune informazioni per creare una corrispondenza rispetto a specifiche offerte di lavoro che poi non esiste nella realtà. Si tratta di trasmettere la nostra identità in modo autentico e il più completo possibile. Tra gli errori mettere insieme vita privata e lavorativa. L'opportunità è grossa, bisogna avere il pensiero laterale di capire quando si apre e poi si gestisce la propria presenza online che può avere impatti anche sulla propria reputazione professionale. Solitamente sono considerati contenuti sensibili quelli che possono essere esplicitamente magari discriminatori, diffamatori, quindi che urtano in qualche modo la sensibilità di altre persone. Insomma, curare la propria immagine online è estremamente impegnativo. Beh, ma cercare un lavoro è un lavoro, questo non è mai stato nascosto e questi canali creano condivisione e vicinanza.